Mare fuori, l'ho vista, l'ho vista tutta e mi è anche piaciuta. Allora, bisogna contestualizzare questo mio giudizio, però è vero, quindi parliamone. Questa serie è strana, perché per quanto abbia tanti elementi tipici da fiction rai che non mi appartengono, perché noi in Italia siamo praticamente una colonia americana, diciamolo, e quindi abituati a un tipo di serialità completamente diversa, e invece mi sono trovato di fronte ad una serie molto godibile, ma proprio tanto, ed è facile parlarne male senza averla vista, perché io sono sicuro che molti che ne parlano male non l'hanno vista, e ci sta, eh, non è che stiamo parlando di Breaking Bad, dei soprano, di The Wire, ma per una volta che una serie rai porta un tipo di narrazione moderna, al passo con i tempi, con dei personaggi a tratti complessi e amabili, con cui è facile empatizzare, e che porta anche, a volte in maniera superficiale e veramente ridicola, ah, la camorra, ma altre volte no, dei temi ultrasensibili. Paradossalmente il problema di Marefuori deriva dal suo successo, perché gli attori protagonisti incominciano a diventare famosi e quindi giustamente vogliono allontanarsi dal progetto per fare altro. Ci si incomincia ad adagiare sugli allori dal punto di vista della scrittura, che diventa pigra, raffazzonata, il trash che c'è sempre stato dalla stagione 1, dalla terza e la quarta incomincia veramente a prevalere, c'è solo quello. E quindi sì, le ultime due stagioni di Marefuori, soprattutto la quarta, danno veramente ragione ai detrattori, sono orrende. Ma anche nello schifo, stasera mi ha regalato dei momenti di genuino divertimento, quindi un po' mi ci sono affezionato. L'ho vista che era un puntino e man mano che si avvicinava l'ho vista crescere, qui chi coglie la cheat, veramente, vi voglio bene. E voi, avete visto Marefuori? Cosa ne pensate? Sono curioso.